Sappiamo che è un capitolo doloroso e sappiamo anche che nessuno vuole descrivere in questo ambito, come in tutto questo mio ragionamento, questo come il paese delle meraviglie, anche perché nessuno di noi è Alice. Quindi, nessuno di noi è Alice e questo non è il paese delle meraviglie. Ma tutte le persone di buonsenso, che hanno concretezza e approccio non ideologico e pragmatico ai problemi, sanno che i problemi complessi non si risolvono con uno schiocco di dita. Occorre fare buone leggi, migliorare l'efficienza dell'organizzazione e attendere che arrivino i risultati. E prima arrivano meglio è. E qui i risultati stanno arrivando con gradualità, ma le cose vanno meglio di prima. Che è esattamente l'obiettivo di chi, riformatore, sa che la realtà si cambia riformando le cose e facendo sì che gradualmente vadano meglio, senza illudersi che arrivi un giorno in cui con uno schiocco di dita tu abbia la possibilità di risolvere tutti i problemi. È esattamente quello che si sta verificando nell'ambito della violenza di genere, per la quale noi saremo contenti quando qui avremo solo dei numeri zero. È un obiettivo utopico probabilmente, ma sappiamo bene che bisogna coltivare l'utopia talvolta per realizzare il sogno di una realtà migliore. Grazie.